Marco Scherillo, membro del gruppo giovani, questa sera è una grande serata con uno slogan importante, dritto al cuore, in una location meravigliosa e con una finalità davvero prestigiosa e importante, soprattutto se messa in campo da voi giovani. Esatto, una finalità, questo evento molto importante, supportare l'Unità Alzi, e questa è una location che ben si adatta ad ospitare tante persone e a farsi contribuire in tanti a questa iniziativa. Con la scelta del San Carlo si è voluto unire anche i giovani alla cultura, avvicinare i giovani alla cultura, quindi è stato un minovio vincente a partirsi che questa è una splendida serata e che supporta questa iniziativa a favore dell'Unità Alzi. Ecco, a favore dei più piccoli, tu hai un'azienda che si occupa proprio di più piccoli, parliamo. Esatto, esatto, anche noi ci occupiamo di abbigliamento per bambini, abbiamo fatto la sponsorizzazione per questa serata, quando si tratta di fare sponsorizzazioni per eventi di beneficenza e soprattutto per bambini siamo sempre in prima linea. E allora in bocca al lupo e buon Natale. In bocca al lupo e buon Natale a tutti, grazie di aver contribuito a questa serata. Grazie a tutti.